L'emergenza educativa certamente è molto al cuore delle questioni attuali del nostro tempo. Lei ha citato anche questo nel discorso alla città con i problemi che possono nascere, dipendenze dei ragazzi, dei giovani. Ecco, un progetto importante. Come la Chiesa riflette su questo? Beh, la Chiesa ha una lunga tradizione di riflessione su questo tema in contesti molto diversificati. Quindi noi abbiamo dei grandi santi educatori che hanno interpretato l'emergenza educativa come una vocazione, cioè hanno messo in gioco la loro vita, si sono sentiti chiamati da ragazzi, adolescenti, giovani, smarriti, marginali, trasgressivi. Ecco, e hanno trovato percorsi promettenti, quindi c'è tutta una tradizione. Adesso si tratta però di riconoscere che anche il sistema, questo contesto, presenta delle emergenze educative specifiche. E quindi è questa la sfida che si deve raccogliere a livello accademico come cerca di proporre questo percorso che l'ODL ha istituito collaborando con l'Università Cattolica. È chiaro, il percorso accademico è un aspetto del modo con cui la Chiesa affronta l'emergenza educativa. E però l'Accademia, cioè lo studio scientifico delle situazioni, dei problemi, è indispensabile per non essere improvvisatori, velleitari, per non essere gente che semplifica le situazioni o che invoca interventi soltanto di contenimento, di emarginazione, di autoritari. Quindi questo è per dire l'importanza di uno studio, di un approfondimento, dell'apprezzamento di coloro che dedicano la vita allo studio, come sono i professori dell'Università. Questo però è soltanto una parte, ecco, poi bisogna che ci siano degli adulti formati, competenti, attenti, ma poi anche capaci di quella relazione educativa che è la sintesi dell'Accademia, dello Spirito Santo, della buona volontà, delle circostanze che propiziano questo. E quindi la sfida sarà di ogni generazione e noi cerchiamo di raccogliere la sfida che questa generazione ci presenta.